Lo stile barocco, l'architettura e il fascino della Valle del Sele permettono all'hotel di Villa Antica di diventare la location ideale per il vostro matrimonio. Questo hotel a quattro stelle, oltre alla bellezza e alla suggestività dei suoi spazi, vi mette a disposizione uno staff eccellente che coordinerà il vostro evento al meglio. La sala imperiale, la sala Villa Antica e la sala regina vi avvolgeranno con eleganza tra i loro arredi in stile barocco veneziano. e faranno da cornici a un ricevimento noziale in pompa magna. Il terrazzo panoramico che circonda una meravigliosa piscina, invece, potrà essere scelto come sfondo perfetto per trascorrere il vostro banchetto di nozze al chiaro di luna o magari per allestire la vostra romantica cerimonia resa ancora più speciale da questa magica atmosfera. Eleganza, ricercatezza e raffinatezza sono gli elementi che contraddistinguono quest'importante hotel. Il personale altamente qualificato si occuperà nel dettaglio di allestire i diversi ambienti e di accogliere i vostri ospiti con un caldo e familiare sorriso. La ricerca e la selezione di prodotti di qualità, la maestria degli chef e la loro inventiva daranno vita a avere prelibatezze della cucina tradizionale campana, nazionale e internazionale. I menu saranno personalizzati al massimo e adattati alle varie esigenze dei commensali. Inoltre, l'hotel Villa Antica vi apre le porte delle sue camere e suite per consentirvi di passare una prima notte di nozze meravigliosa all'insegna del più totale relax e dei migliori comfort.